Ciao a tutti, cari spettatori, e benvenuti al nostro canale YouTube. Oggi vi portiamo uno sguardo esclusivo nell'intervista con Alessia Marcuzzi, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, su Rai 2. La conduttrice 50enne condivide apertamente le sue opinioni sulla disciplina e le punizioni nei confronti dei suoi figli, Tommaso e Mia. Scopri cosa ha da dire su questo argomento interessante. Nell'intervista, Alessia Marcuzzi condivide il suo approccio alla disciplina e alle punizioni con i figli. Si definisce, come la signorina Rottermeier, una figura che impone il rispetto nei confronti dei genitori. Alessia discute come la disciplina è cambiata nel corso degli anni e come gestisce la situazione quando i suoi figli non rispettano le regole. Alessia Marcuzzi racconta come affronta le situazioni in cui i figli rispondono male o si comportano inappropriatamente. Rivela le punizioni che impone. Incluso il «silenzio», temporaneo con Tommaso e il controllo sull'uso del telefono di Mia. E con questo, concludiamo la nostra esclusiva intervista con Alessia Marcuzzi. Grazie per essere stati con noi oggi e alla prossima.